Musica unisce l'Istori Roma Passaggio all'indietro per Toigo che brucia la difesa dell'Istori Roma e al minuto numero 4 fa 2 a 0 per il Real Terracino Anzi no, questa volta fa un gran gol Il destro che fa secco di nuovo Michela Tocca per Di Martino che non arriva Magner però non molla, recupera il pallone e serve a Di Martino il più facile dei tap-in Rimarte l'amante per Di Yamada prova di tirare il suo mancino doppio triplica, ancora su mancino di Yamada arriva adesso ed è un gol pazzesco quello del timponico che si è Il ritmo al Paragarucci De Giubilei però riapre la partita con un destro ancora una volta al fulmico tone Mettini, deviazione di Zaccardi o di Olleia ma fatto sa che il L'Istori Roma al quinto minuto di gioco impatta la gara Contro Giubilei lo salta Di Netto mette in mezzo e provoca l'autorete del numero 23 Zaccardi C'è Cicciotto prova a saltare tutti e mette una grande palla per Messina Olleia lo chiude e chiude benissimo Di Fabio grande risposta si riparte con Del Duca contro contro Giubilei Del Duca si punta fa 6 a 5 un gran gol di Del Duca regolare l'intervento scusa Enrico di Toigo Yamada apparecchia per Frainetti che raccoglie l'invito e mette la palla sotto il 7 53 secondi Messina interviene Doigo la porta è vuota 1-2 Doigo vediamo se ritorna in gara l'Istori Roma e ritorna proprio in gara con l'autorete di Lamante gran giocata questa volta di Messina gioco qualmente con Olleia a terra dolorante l'Istori Roma c'è lo stesso Olleia che tira e fa gol e fa gol Matteo Olleia interviene Lamante Yamada 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 verso la porta Yamada Yamada finisce qui finisce qui e l'Istori Roma a terra